Nel febbraio del 1965, per volontà dell'allora rettore dell'Università di Perugia, Giuseppe Ermini, iniziarono una serie di lavori per adeguare il Palazzo dei Barnabiti a sede della Facoltà di Magistero. E qui vedete una bellissima immagine di Palazzo Florenzi, proprio alla fine di questi lavori del 1965. La comunità religiosa si era trasferita nella nuova residenza del Verzaro nell'agosto del 1886 acquistando questa dimora straordinaria che in precedenza aveva ospitato i Danzetta e poi per lunghi periodi, come tutti sappiamo, la nobile intellettuale di origini ravennati Marianna Florenzi. Proprio in occasione della ristrutturazione del 1965, quando dal settore del Giardino Pensile e del Palazzo si rese necessario ricavare alcune aule universitarie, si procedette a tutta una serie di massicce operazioni di sterro e di demolizione. Fu allora possibile per la sovrintendenza alle Antichità dell'Umbria, questo era il titolo allora, dell'ente, eseguire alcuni saggi all'interno e all'esterno delle mure etrusche. Sotto la supervisione di Anna Eugenio Ferruio venne quindi riportato alla luce, come vedete, un lungo tratto del prospetto interno della cortina muraria, che è ancora visibile nell'aula magna del Fissufo e del Dipartimento di Filosofia, e furono riconosciute sia le antiche tecniche di costruzione, sia tutta una serie di strategie di cantiere, in un settore tra l'altro che, come vedremo, segna un deciso cambio di direzione delle mura. Siamo lungo il tratto della scinta muraria che si sviluppa tra Porta Trasimena, che è rivolta a ovest, e l'arco etrusco aperto invece verso nord, in un'area che è attualmente all'interno del parcheggio dei Dipartimenti Umanistici, il cui ingresso, come potete vedere uscendo, è veramente a pochi passi da noi. Ora, a distanza di qualche buon anno, credo che alcune evidenze, alcune conclusioni di queste preziose indagini, che furono pubblicate solo parzialmente nel 1970, e che sono state tra l'altro descritte in un giornale degli scavi sostanzialmente inedito, meritano come dire una serie di osservazioni, qualche commento, e non solo in relazione al testo di una notevole iscrizione, che è stata rinvenuta proprio in questa occasione, di cui vi dirò tra breve, ma anche per un'informazione che la Feruglio dà e che, penso, sia certamente da approfondire. La presenza, cioè, nel tratto di mura, di interesse, in questo caso, di una porta con un arco in mattoni, che, nello studio del 1970, venne datata in maniera piuttosto generica, forse nel XVI o XVII secolo, nei pressi della quale sono stati recuperati proprio i frammenti dell'iscrizione, di cui vi dirò tra breve. Vi leggo, tra l'altro, quello che scrive la Feruglio. L'iscrizione è incisa sul lastrone di Travertino, spezzato in due frammenti, rinvenuti separatamente, ma a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, nei pressi del punto in cui, forse nel XVI o nel XVII secolo, nella cinta muraria antica era stato aperto un varco, successivamente richiuso e poi riaperto nel corso dei lavori per permettere l'accesso alle aule interne. La segnalazione, che trova piena conferma, tra l'altro, nelle foto scattate dalla soprintendenza nel corso degli interventi, ha di per sé, diciamo, un suo interesse urbanistico e storico-archeologico, considerata le scarsissime notizie che abbiamo su modalità di esecuzione e cronologie dei varchi, sia privati che pubblici, ricavati nel corso dei secoli, lungo il perimetro delle mura perugine. Ma la segnalazione diventa ancora più interessante se vi ricordo quanto la Feruglio scrive in una nota di questo suo articolo del 1970, cito, si potrebbe avere il sospetto che il varco corrispondesse a una pusterula, a una piccola porta antica. Purtroppo gli interventi di demolizione e ripristino hanno cancellato per gran parte le evidenze più antiche, qui vedete benissimo la porta, in un settore del resto che, soprattutto nelle quote più alte della cortina muraria, già presentava notevolissime risarciture di epoca medievale. Nel 1965, comunque, la ricostruzione del varco e dei tratti adiacenti è stata seguita dagli artigiani edili sulla traccia di quanto restava dell'apertura preesistente e con l'impiego di molti blocchi della fase etrusca. Blocchi che, ai lati dell'ingresso, nel prospetto interno, come vedete in basso, non risultano lasciati grezzi come nei tratti adiacenti, ma si presentano lisciati e lavorati regolarmente, ben oltre lo sviluppo degli stipiti attuali, perché evidentemente erano a faccia vista, erano visibili. Ora, nonostante sia questo che vedete, lo stato dell'evidenza, ci sono tutta una serie di indizi contestuali e una serie di ricerche documentali di cui vi dirò che ci possono, in qualche modo, aiutare a definire meglio sia la cronologia che le trasformazioni sul lungo periodo di questo varco che è aperto ed orientato perfettamente verso nord. E, come vi ho anticipato, alcune utili informazioni possiamo ricavare già dalla lettura dell'iscrizione del duoviro Firmio Gallo, che celebrava i lavori di una strada, la via Torrena. Iscrizione che è certo databile alla prima età imperiale, ma che fotografa una situazione topografica precedente, cioè della Perugia etrusca, come dimostra la stessa menzione della via Torrena, che è un nome etrusco. Questa è chiaramente l'iscrizione, incisa su una lastra rettangolare, che ripeteva le stesse informazioni su entrambi i lati. La Feruglio, valutando il contesto, concludeva che la lastra doveva provenire dallo stesso luogo di rinvenimento, oppure, cito sempre lei, da non molto lontano. Ora, il fatto che l'epigrafe sia opistografa, cioè con il medesimo testo inciso su entrambi i lati, dimostra la presenza nell'area che stiamo indagando di almeno una strada. Considerando tuttavia la stretta relazione esistente dal punto di vista delle logiche urbanistiche e topografiche, sia etrusche che romane, tra porte e vie, sia urbane che extraurbane, un'iscrizione di questo tipo poteva trovare una collocazione irreale anche all'interno di una porta. Un confronto significativo è con un'iscrizione rinvenuta a Pompei, la Vetterotto. Il testo di questa iscrizione pompeiana, un'iscrizione in osco del II secolo a.C., presenta molte analogie con l'iscrizione perugina e celebrava proprio all'interno di una porta urbana, la porta di Stabia, i lavori di delimitazione e di sistemazione di tratti della via Stabiana e della via Pompeiana. C'è un'altra considerazione che in questo caso è di ordine storico-religioso, che leggendo il testo dell'iscrizione rende plausibile un'ubicazione della lastra di Firmi o Gallio in prossimità di una porta, ed è la menzione di un altare dedicato a Silvano, che rappresentava proprio l'inizio del tratto della via Torrena, oggetto dei lavori di sistemazione stradale. Il testo epigrafico dice proprio Abhara Silvani. Ad illuminarci in questo caso può essere il confronto con la porta urbana di un centro etrusco prossimo a Perugia. Mi riferisco alla porta bifora di Cortona, aperta ad ovest, a fornice unico nella sua prima fase, ma poi, come vedete in questa foto, trasformata a fornice doppio nel corso del II secolo a.C. Nel 1847, a pochi metri dalla porta, furono rivenute all'interno di un deposito votivo le statuette in bronzo di due divinità, Culsans, che vedete sulla sinistra, e Selvans, che vedete sulla destra. Collocate originariamente in nicchie interne alla porta, rappresentavano rispettivamente l'una, Culsans, la divinità bifronte, come il giano romano, custode del passaggio stesso, l'altra, Selvans, la divinità tutelare del confine urbano. Anche il Silvano dell'epigrafo del Verzaro, dunque, versione romana del Selvans etrusco, il cui culto era certamente già presente nella Perugia preromana, lo sappiamo da un'iscrizione, non poteva che apparire come un custode dei confini, un tutor finium, avrebbero detto i latini. E la dedica di un'ara di Selvans, Silvanus, all'interno e in prossimità di una porta urbana, ovvero all'inizio dell'importante tratto stradale, potrebbe avere una sua coerenza, sia topografica che religiosa. Per quanto riguarda la viabilità extraurbana, l'ipotesi più verosimile per la zona della porta di Palazzo Florenzi, e su questo tornerò tra breve, è che vi fosse una strada che in epoca etrusca seguiva esternamente il percorso della cinta muraria, risalendo da Porta Trasimena e quindi da questa zona. In ogni caso, in corrispondenza della porta, oggetto di questo mio intervento, si nota una considerevole modifica. Le mura, subito dopo la porta, deviano il loro percorso in direzione sud-est. Nella sua ampia indagine sulle mura etrusche di Perugia, Paul Defoss notava sulla scia di vecchi lavori come ben sei porte della cinta muraria perugina fossero situate, traduco dal francese, in prossimità di un angolo che disegnano le mura. Rispetto a queste, quindi, la porta di cui vi sto parlando non farebbe eccezione. Con tutte le caduelle del caso, perché chiaramente parliamo di una ricostruzione, voglio darvi conto anche delle dimensioni attuali della porta, che, come ho detto, è il risultato di questa operazione del 1965, ma che gli archeologi e le maestranze hanno ricostruito sulla base delle evidenze strutturali precedenti. Allora, la parte superiore del varco, che oggi appare leggermente più interno rispetto alla linea ideale esterna delle pura, misura metri 4.27, mentre la parte inferiore, che risulta tagliata, metri 3.10. Proprio la misura di metri 4.27 potrebbe essere significativa, ripeto, il condizionale è d'obbligo. Non si tratta, infatti, di una misura molto distante dalla luce dell'arco etrusco, che è metri 4.37 alla base dei piedritti, ed è invece perfettamente coerente con la luce interna di porta Trasimena, la porta che è qui accanto, che misura, infatti, metri 4.27 ed ha una luce esterna di 4.37, esattamente come l'arco etrusco, quindi avremmo, diciamo, una coerenza di misurazione. Per proseguire nella nostra indagine dobbiamo, a questo punto, esaminare la documentazione manoscritta di epoca medievale, perché se in questo settore delle mura un ingresso esisteva già nell'antichità, se esisteva già nell'antichità, difficilmente questo fu soppresso nel corso della tarda antichità o dell'alto medievo. Ora, l'unica porta della città vecchia o terra vecchia, come era chiamato il centro di Perugia in questa fase, che tra il 1276 e il 1342, sia le riformanze che gli statuti comunali collocano nella parrocchia di San Martino del Verzaro, è la porta Scalelle o Scalella. La prima sintetica menzione di questa porta, come vedete, è in una lista del 1276, con le porte custodite del rione di Porta Sant'Angelo, e la vedete in alto. Porte Scalelle-Santi Martini. Continuo, quindi, con lo statuto del 1279, dove si ricordano interventi di consolidamento al Murus Civitatis, che interessarono anche Murum de Scalella, parrocchie Sancta Martini de Viridario. Qui è importante che, da un punto di vista topografico, si menzioni non precisamente la chiesa di San Martino, che, come sappiamo tutti, è obbligata lungo via del Verzaro al Civico 23, bensì la parrocchia, entro i cui limiti, in effetti, ricadeva il segmento di mura e il varco di cui vi sto dicendo. Un'altra informazione topografica può trovarsi in una miscellanea conservata verso l'archivio di Stato di Perugia, adattabile al periodo d'agosto-novembre 1338. In questo caso si fa riferimento che la porta Scalelle, si dice, non ve la traduco in dettaglio, si dice che la porta Scalelle era vicina ad un arco in mattoni addossato alle mura della città vecchia. Ora io credo che questo arco in laterizio sia andato perduto, però segnalo che a pochi metri dalla porta ed in prossimità del punto in cui le mura piegano è conservato un più recente arco con archivolto e piedritti in mattoni che si appoggia direttamente al paramento a blocchi della cortina etrusca. Quindi nelle forme attuali l'arco supporta una dimora decente a Pasalazzo-Frolenzi. Io non lo so dimostrare, ma è possibile che questo arco possa essere una ricostruzione dell'arco citato nel 1338 proprio vicino alla porta Scalelle. Quello che posso dirvi con sicurezza è che questa porta era sicuramente sorvegliata, c'era un controllo in ingresso in città, era collegata la discussione dei dazzi, e infatti insieme all'elenco che vi ho già citato del 1276 noi sappiamo che, grazie a un documento d'archivio, che nel novembre del 1322 un tale Pietro Deodati venne designato custode proprio ad portam Scalelle. Vent'anni dopo, nello statuto involgare del 1342, la Scalella del Verzaro viene citata in relazione al divieto, leggo, di scarnare la pelle né fare molsa de pelle la città di Peruscia. Cioè, sostanzialmente non si potevano lavorare le carcasse animali per ricavarne pelle. E poi ci sono, come leggete, una serie di divieti, diciamo di multe, che venivano ovviamente emesse, nel caso questo divieto venisse disatteso, però si fa riferimento sempre alla Scalella del Verzaio e si dice queste cose però che stiamo scrivendo non devono pregiudicare il lavoro del cartolare che sta, stagliente, involgare, alla Scalella del Verzaio. Quindi nella zona del Verzaro, prossima alla Scalella, operavano i cartolari che conciavano le pelli per ricavarne pergamene e che svolgevano un'attività di pubblico interesse per la comunità perugina. Questa informazione, che apparentemente è poco utile per stabilire l'ubicazione della Scalella, credo che risulti in realtà preziosa. Infatti sappiamo da altre fonti che dalla presenza e dal lavoro di questi artigiani era presente nel quartiere del Verzaro una zona chiamata la cartolaria. Ne troviamo menzione ad esempio nella vita di mecenate di Cesare Caporari, opera scritta dopo il 1591 e pubblicata postuma nel 1604. Nel commento al poema che il nipote di Cesare Carlo scrive per l'edizione del 1651 vengono chiaramente indicate posizione e funzione della cartolaria che al tempo già non risultava più attiva. Scrive Carlo Caporari nome di una contrada in Perugia in fine del Verzaro dove si faceva la carta anticamente. Chi vive a Perugia e chi frequenta il centro storico sa bene che l'espressione in fine del Verzaro indica all'area dell'ex magistero il parcheggio dei dipartimenti umanistici. Comprensibili ragioni di igiene e di sanità vietavano che la lavorazione delle carcasse e dei pellami avvenisse nei pressi della chiesa di San Martino e nella zona nobile del Verzaro dove pure in passato si è pensato di poter collocare la porta scalelle. Che l'attività dei cartolari costituisse un rischio per la salute e il decoro pubblico emerge anche dalla lettura degli statuti dell'arte dei cartolari di Perugia e qui richiamo un passo relativo all'anno 1338 che registra sempre una serie di divieti e relative pene pecuniarie e qui non si fa riferimento alla porta scalelle ma si fa riferimento alla via scalelle in ogni caso chiaramente così denominata in riferimento alla porta e in questo documento in latino si capisce molto bene la relazione con le mura di questa via scalelle perché la via scalelle costeggiava le mura e qui si dice che non si potevano appendere le pelli alle mura stesse e poi si fa riferimento alla destinazione finale che per me in questo caso è decisiva la destinazione finale è Locum Fratrum Sancti Francisci cioè il convento dei frati minori di San Francesco al Prato dove siamo noi la cui sede tra l'altro nel corso dei secoli non è mai stata traslata e che infatti è proprio qui all'uscita della via che scende dalle mura del Verzaro e la descrizione quindi di questa via scalelle diciamo che restituisce in qualche modo uno stato dei luoghi e della viabilità che pur a quote diverse appare in sostanza molto simile all'attuale quindi il percorso medievale di questa via nel 300 usciva dall'omonima porta costeggiando le mura etrusche fino a San Francesco al Prato quindi credo che il varco che è stato riaperto nel 1965 come avete visto può essere identificato con la porta scalelle il nome della porta che è un nome di origine medievale deriva certamente dalla presenza di una scala nei pressi o all'interno della struttura ora nel giornale degli scavi che è stato redatto dalla Ferruio ricorrono più volte come riferimento topografico proprio delle scalette che scendono verso il pendio come vedete in questo schizzo che ho scannerizzato proprio dai giornali degli scavi scalette che risultano come vedete ubicate all'interno delle mura pochi metri a sud-est della porta scalette che sono state documentate graficamente che purtroppo furono demolite anche queste e che non sono state ahimè datate quindi un sicuro termine di datazione per la porta delle scalelle l'abbiamo visto è il 1276 prima di questa data questa porta c'era da c'era già è un chiarissimo sicuro terminus antequem ma direi che ci sono una serie di indizi che in sintesi vi ricordo che rendono del tutto plausibile che questo varco ricostruito trasformato più volte nei secoli costituisse già una porta della città antica quindi vi sintetizzo questi indizi il ritrovamento nei pressi della porta dell'iscrizione latina o pistografa questo è fondamentale del duovio firmio gallo dove si ricordano lavori di sistemazione stradale a partire da un'ara dedicata a Silvano il dio come Selvans ha già un culto nella Perugia etrusca Selvans e Silvano è noto nelle fonti latine come custode dei confini e quindi sarebbe una perfetta divinità tutelare dei limiti urbani come dimostra tra l'altro il confronto con la porta bifora di Cortona in corrispondenza della porta dell'ex magistero che è orientata perfettamente a nord le mura formano un angolo così come avviene per la maggior parte delle porte del circuito murario etrusco di Perugia la porta è stata ricostruita nel 1965 sulla base delle preesistenze e con il riuso di blocchi lisciati in antico nel prospetto interno la luce attuale del varco presenta misure identiche alla luce interna della vicina porta Trasimena e simile all'arco etrusco almeno alla base dei piedritti vi do un'ultima informazione sto concludendo nei pressi della porta scalelle o scalella del Verzaro sono stati rinvenuti alcuni di questi altari in travertino che sono conservati al mano come sappiamo questo? lo sappiamo anche grazie ad un documento citato nel CIL nel corpus iscrizionale latinarum che ho rintracciato presso la biblioteca ambrosiana di Milano e il documento è presente in uno degli zibaldoni epigrafici dell'umanista Mariangelo Accursio eccolo qua non vi traduco per brevità le righe in alto ma sostanzialmente la testimonianza del manoscritto ambrosiano confermano la posizione della scalella che nel che nel manoscritto viene descritta rivolta a nord verso Porta Sant'Angelo ed in posizione dominante rispetto alla conca come è possibile osservare esattamente ancora oggi infatti le ultime tre lettere vocabolum il riferimento è la conca autem est inferior locus a similitudine è scritto proprio concavitatis vi ringrazio grazie a tutti